La segnalazione era stata già fatta nel 2012 e nel 2013. Alcune strutture delle scuole materne comunali di Arezzo presentano ancora coperture in Eternit, materiale altamente cancerogeno se corroso dal tempo e dagli agenti atmosferici. A rilanciare il tema ora è Francesco Francini, capogruppo del Popolo della Libertà in Consiglio Comunale. In particolare Francini segnala la situazione di due strutture, quella del Cucciolo e del Fonterosa. Stamattina abbiamo appreso che questi interventi sono stati fatti su altre scuole e ad oggi non ci sono fondi né per il Cucciolo né per il Fonterosa. Ci è stato garantito anche che il monitoraggio continua, che i tetti sono stati incapsulati con apposite vernici. Però a questo punto noi ritiamiamo un po' la Giunta a qualche bugia che all'epoca fu detta perché l'impegno era generale per tutte le scuole. Allo stesso tempo sollecitiamo a questo punto la Giunta a fare scelte ben precise, magari a decurtare fondi, quindi sottare fondi ad altri interventi meno utili e quindi fare delle priorità e destinarli a questo, che noi a questo punto reputiamo un intervento assolutamente necessario. Levare l'Eternit dalle scuole e sostituirlo con sostanze non nocive penso che sia importante, necessario ed urgente.